Il focus principale che dobbiamo fare è Juventus-Milan. Non si scappa, noi dobbiamo concentrarci su quella partita lì. In questi giorni, in queste settimane abbiamo parlato tanto di futuro della Juventus, tanto dei pro e dei contro sul confermare Pirlo o sul cambiare allenatore e andare magari su Allegri, su Zidane, su Conte, su Gasperini, su Simone Inzaghi, ma trovate tutti i video qui sopra nelle schede. Quello che voglio fare oggi insieme a voi è un ragionamento, un ragionamento che ci fa veramente capire quanto il calcio sia uno sport bellissimo. Parlo con i dati, per una volta parlo con i dati, non con i sentito dire, non con le sensazioni che possono costruire qualcosa, e su YouTube molti dei miei video si basano molto su quello, ma poi quando il campo parla e ci dà delle indicazioni, beh, tutto questo è ancora più bello. Ma prima di tutto un mi piace a questo video, signori dovete assolutamente mettere un mi piace, tra i 2000 e i 3000 like, quello no, è il nostro range, iscrivervi a questo canale perché dobbiamo arrivare a 200.000 iscritti entro la prossima stagione, entro l'inizio della prossima stagione voglio i 200.000 iscritti per festeggiare insieme a voi un nuovo traguardo eccezionale di questo canale YouTube. E qui sotto in descrizione c'è OneFootball per capire se Chiesa recupererà, perché ci servirà per quel Juventus Minallah, perché Chiesa è veramente il prototipo di giocatore che ti stravolge la squadra e ti cambia una stagione, la Juventus con Chiesa e senza Chiesa è tutta un'altra storia, è per capire quella che sarà la formazione ufficiale della Juventus, quella che sarà la preparazione della Juventus sperando di non perdere altri pezzi. Gratis, qui sotto in descrizione. Il ragionamento che voglio fare insieme a voi è il seguente, Champions League 2021, quella odierna 2021, semifinali PSG contro Manchester City, Real contro Chelsea, la finale sarà City-Celsea, ancora una volta una finale inglese, come è accaduto due anni fa, l'altra volta però era Tottenham-Liverpool. Questo per darvi un'idea del giro delle ultime tre stagioni, due volte c'è stata una finale tutta inglese, per farvi capire quanto gli inglesi siano più avanti rispetto a tutti gli altri, per farvi capire quanto la Premier League sia effettivamente il campionato più competitivo al mondo. Tra l'altro si vanno a sfidare due squadre che l'anno scorso in campionato, in Premier League, sono arrivate rispettivamente City-Seconda e Chelsea-Quarta. Per farvi capire la differenza di campionato rispetto alla Serie A, quando c'è un campionato così competitivo, la quarta, quella che arriva a quarta e si qualifica come ultimo slot per la Champions League, l'anno dopo ti va a fare la finale di Champions. Ancora un'altra cosa, molte volte ci siamo ritrovati qua a chiacchierare e a dire, beh, ha senso dare continuità a un progetto e quindi dire, beh, no, guarda, non voglio ricominciare per capirlo, guarda, si merita un'altra stagione per far capire qui e là, o ha senso cambiare perché magari non ha convinto, si vuole prendere un allenatore più bravo, non si sa. PSG City, la contrapposizione, il City ha tanti anni con Guardiola che insiste su questa cosa, il PSG prende pocettino dopo aver esonerato appunto Tuchel e sono esattamente in contraposizione. E passa Guardiola che è quello che ha dato continuità, che lì da anni la squadra lo segue, lo conosce, uno dei top manager, uno dei più bravi in giro, uno degli altri più bravi in giro è Zidane, Real Madrid, continuità, Zidane, il Chelsea proprio di Tuchel, preso dopo le macerie di Lampard, il Chelsea era tipo ottavo in Premier League, ora è in piena lotta per la conquista di un posto alla prossima Champions League ed appunto in finale, con una volta la contrapposizione e questa volta vince invece il nuovo, quindi continuità è nuovo, cambia poco, sta tutto nelle voglie dei giocatori sugli stati di forma, guardate poi solo Giorginio, no? Io mi ricordo l'anno scorso eravamo qua, parlavamo e si diceva beh, se Sarri rimane a Juventus vuole un regista alla Giorginio, io per primo non sono mai stato innamorato di Giorginio, è un prototipo di calciatore che non mi fa impazzire. Sicuramente ci avrebbe fatto molto comodo, vedendo anche il rendimento che sta avendo al Chelsea, arrivare a conquistare una finale di Champions sia un ottimo risultato, già arrivare nelle prime 4 di Champions sia un ottimo risultato, soprattutto se la stagione è partita in tutt'altro modo e il fatto che quest'anno ci sono gli europei e Giorginio giocherà per noi, sicuramente un indice di qualità al centrocampo, aggiungiamo Verratti, che appunto era in semifinale, aggiungiamo Florenzi, abbiamo già qualche giocatore, anche Moise Ken, che però non era titolare nel PSG, abbiamo qualche giocatore di qualità, diciamo così. Abbiamo lato Italia, non lato Juventus perché uno tra Giorginio, Locatelli, Barella, aggiungiamoci Barella che ha vinto lo scudetto, Verratti che è arrivato nelle prime 4, quelli sono giocatori di qualità che a noi mancano, noi Juventus, però io non ero contentissimo di Giorginio e alla fine si va a fare una finale di Champions per farci capire quante cose possiamo dire, quante cose possiamo pensare e poi alla fine è sempre così. Kanté si è mangiato praticamente il centrocampo da Real Madrid da solo, giocatore mostruoso Kanté, veramente un giocatore incredibile, titolare nella Francia campione del mondo, ha portato il Chelsea in finale di Champions League, ha vinto uno scudetto con l'Eister, robette, cose che fanno un po' tutti nel corso della carriera. Ma per darvi l'idea, per farvi capire quanto è bella la Champions League, torniamo indietro. Annata 2020, la Champions League, la finale dell'anno scorso, le semifinali dell'anno scorso, Lione contro Bayern, Lipsia contro PSG, tutte squadre diverse ad eccezione del PSG che si conferma per la seconda volta nelle prime 4. Andiamo un anno indietro ancora, Tottenham, Ajax, Barcellona, Liverpool, ancora una volta tutte squadre diverse, per farvi capire che non c'è veramente una formula nella Champions League. Non è che lì ci arriva chi ha il giocatore più forte, chi ha la squadra più forte, chi gioca meglio, chi difende meglio, chi attacca meglio, chi ha la migliore fase di transizione. No, no. C'è tanta componente legata alla fortuna, il sorteggio, gli infortuni, le squalifiche, lo stato di forma fisico e psicologico, perché noi in questo momento Juventus siamo lì, non ce la facciamo più perché con la testa abbiamo staccato e siamo qua che diciamo, vi prego, tenete botta per le ultime 4-5 partite della stagione perché andiamo veramente a giocarci tutto. Non arrivare in Champions League significa non rischiare nemmeno di sognare di arrivare là. Personalmente non avrei mai pensato al Chelsea in finale di Champions League, mai. Guardo la squadra del Chelsea, leggo i nomi, mi sembra una squadra normale, eppure butta fuori il Real in semifinale. Roba da poco buttare fuori il Real in semifinale, me ne ricordo un'altra che nel 2015 butta fuori il Real in semifinale, però poi perde la finale, cosa che secondo me accadrà ancora una volta. Credo che quest'anno la Champions avvicinerà al City di Guardiola, però il calcio è sempre questo, c'è la sorpresa dappertutto. Quindi anche quella che arriva a quarta in campionato, va bene che la Premier League è molto più competitiva, essendosi qualificata comunque la Champions può almeno sperare. Capite l'importanza di questo Juventus-Milan? Il fatto di continuare a compirlo o non continuare a compirlo? Lo abbiamo visto, quelli che arrivano lì alla fine, beh, può arrivarci con l'allenatore che lì da anni e anni e anni, con investimenti, senza investimenti, Zidane Guardiola, la contrapposizione. Per arrivare alla prima Champions League, nel quale ritorniamo a guardare un po' di squadre che ci sono praticamente sempre, dobbiamo andare al 2018, Bayern-Real, Liverpool-Roma, dove la Roma va a fare un'impresa incredibile. L'anno prima è quella del 2017 dove perdiamo la finale con Real, dove c'è anche l'Atletico nelle prime quattro. Insomma, e c'è il Monaco ovviamente, che affrontiamo noi. Tante squadre diverse, anche questo è, anzi, questo è l'unico malus che mi ero sempre dato sull'idea Super League, cioè è logico che ci siano delle squadre che vadano sempre a partecipare, perché vai a vedere. Il Chelsea quest'anno, che va bene, era nelle detentrici. Il Lione l'anno scorso, il Lipsia l'anno scorso, l'Ajax, Lione e Ajax tra l'altro. Non c'è il Porto, stanno proprio male, 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 male. La Roma, l'anno prima, il Monaco, ci sono sempre delle squadre che arrivano comunque lì, nelle prime quattro e fanno la super sorpresa. E se arrivano lì, meritano, se arrivano lì sono squadre che meritano di essere nelle prime quattro. Quindi, per forza di cose, deve esserci sempre una componente legata al merito sportivo. Io avrei interpretato l'Europa League, anzi, la Super League in tutt'altro modo, andando a capire la difficoltà di un campionato. Quello inglese è super competitivo. Delle sei componenti principali, delle sei fondatrici inglesi, rimangano fuori solo il Manchester United, che stasera si gioca con la Roma, appunto, una finale di Europa League, e l'Arsenal. E l'Arsenal, appunto, per farvi capire, no, le sei fondatrici a che livello sono, che livello è la Premier League, che negli ultimi anni continua a buttare praticamente tutte quelle lì, in finale di Champions e di Europa League. Quindi, insomma, il livello lì è più alto. Quindi lì potevano classificarsi cinque squadre, sei squadre, i migliori sei. Poi c'è il Leicester, ce ne sono tante altre che comunque anno dopo anno lottano per arrivare in Champions. Si poteva pensare a tre, quattro nel campionato italiano, due, tre nel campionato tedesco, una, due nel campionato francese, e anno dopo anno fare una Champions, non una Super League magari, ma ribattezzare la Champions, come veramente Coppa dei Campioni, con 20, 22, 24 squadre a livello europeo, a seconda di quanto è difficile un campionato, senza magari metterci tante squadre che vai ad affrontare le guardi e dici poverini, ma sono qua perché lì ci arrivano magari vincendo l'Europa League e l'anno prossimo si classificano quindi per la Champions League. Io l'avrei immaginato in questo modo. Però è evidente che ci sono campionati più avanti rispetto al nostro, che è un po' quello che vi dicevo ieri, no? Per arrivare a immaginare una squadra come il Manchester City in Serie A, ma quanti anni devono passare? Secondo me non ci si arriva neanche con gli investimenti, il tipo di gioco, la panchina lunga. Qualcuno diceva sì, però i panchinari del City sono pagati quanti titolari della Juve, ma il fatto che la Juventus stia sperperando soldi con 7 milioni a Rabiot, 7 milioni a Ramsey, non giustifica il fatto, cioè questa cosa non è giustificata, è un errore, è un palese errore. Infatti la Juve sta affrontando un discorso di riduzione dei costi che quest'estate dovrà sfociare nell'addio di tanti componenti della Rosa della Juventus o dei tesserati Juve, magari anche quelli in prestito dei Sciglio e Rugani da Glascosta, tagliare i rami secchi. Prima di pensare a cedere i di bala e Ronaldo, che purtroppo lì c'è una situazione delicata, ho fatto il video, ho trovato qui sopra nelle schede, la Juventus deve tagliare gli stipendi molto alti in giocatori che non ti fanno una differenza. Ramsey è il principale perché non ci mai guadagna uno sproposito, Rabiot è un altro che sì, non sta facendo male, anzi quest'anno probabilmente uno dei centrocampisti migliori per darvi l'idea del centrocampo la Juventus, non i Cross, i Modric e Casimiro che escono contro il Canté e Giorginio, ok? Non i Fernandinho nonostante l'età avanzata, i Gundogan, i Rodri che addirittura fanno panchina, non quelli lì, non quelli lì, non i Verratti, non i Paredes, cioè tutti i giocatori che... Quelli che ho nominato probabilmente prenderebbero in mano il nostro centrocampo, ma lo prenderebbe in mano anche De Paul, l'abbiamo visto l'ultima volta con l'Udinese, però un giocatore come Rabiot che non ci sta facendo la differenza e si piglia così tanto, capite che è uno dei tagli che la Juventus potrebbe fare volentieri. Però sì, la programmazione è importante, è importante per dare continuità, però abbiamo visto che nelle ultime tradizioni della Champions League è stato follia, ci sono arrivate praticamente sempre squadre diverse nelle prime quattro ad eccezione del PSG, e già questa è una notizia. Noi dobbiamo lavorare per tornare ad avere un ciclo che ci proietta tutti gli anni a fare una buona Champions League e ci fa arrivare almeno nelle prime otto in questo momento. Una volta che arrivi nelle prime otto c'è un'andata e ritorno, magari lì la fortuna, il sorteggio, ti mette contro una squadra di pari livello, di livello inferiore o anche superiore, ma tu la approcci meglio, entri nelle prime quattro e dalle prime quattro, può succedere di tutto. Ovvio che oggi è favorito il City, perché secondo me è una squadra molto più forte, ma anche la Premier League ci sta dicendo questo, il City è più forte del Chelsea. Per una gara secca, e noi lo sappiamo, può succedere di tutto, abbiamo perso delle finali di Champions da palesemente favoriti, abbiamo perso delle finali di Champions da palesemente sfavoriti, ma il discorso è quello lì. Quando si riesce a creare un'amalgama con i giocatori, lo staff, la dirigenza, l'allenatore. Poi la sorpresa è dietro l'angolo. Noi purtroppo negli ultimi due anni, per motivi diversi, facciamo gli ultimi tre, per motivi diversi non siamo mai riusciti a fare il gruppo. Poi è ovvio che se hai dei giocatori forti, come Dybala e Ronaldo appunto, è più facile arrivarci, ma non basta solo quello. E noi siamo sicuramente carenti a centrocampo, ma in questo momento carenti anche di testa, di voglia, di sacrificio verso l'altro, di squadra, siamo carenti di squadra. Quindi questo Juventus-Milan diventa importantissimo per sognare di avere una di quelle notti lì in cui sei attaccato alla televisione e dici, wow, ma gioco contro il Real Madrid, ma figurati se lo butto fuori. E sì, lo butti fuori. Magari con dei giocatori giovani, cresciuti nel tuo vivaio, che giocano per te da sempre. Questo è bellissimo, questa è una favola stupenda del Chelsea. Quindi tutti i discorsi Superlega sì e Superlega no, beh, c'erano dei punti a favore come contrari. Bisogna prendere le cose migliori e cercare di inculcare la UEFA che non avevano palesemente torte, non avevano palesemente ragione, come non ce l'avevano quegli altri. Come non è palesemente giusto o palesemente sbagliato cambiare allenatore se qualcosa è andato male o pensare di cambiare nuovamente per il quarto anno. Eh, cambieremo ancora per il quarto anno, si spera in meglio. Quindi il calcio, ragazzi, è bello perché ci sono troppe variabili e per quanto noi possiamo metterci qua a ragionare, ma quello lì mi piace, no, quello lì non mi piace, alla fine poi il campo, sai cosa ti dice il campo? Che ha sempre ragione lui.